Michele Scapicchi alla prima vittoria sulla panchina del Villa Biagio c'era squalificato Mr. Grilli, Scapicchi si è seduto, ha vinto la prima partita una bella soddisfazione dopo un'estate, chiamiamola così, un po' difficile c'è stata anche l'ipotesi di San Benedetto, della San Benedettese sfumata all'ultimo l'ex tecnico della Grifo si è ritrovato in eccellenza con quali prospettive e si inquicono una soddisfazione? Hai detto bene tu Andrea, abbiamo avuto in estate dei contatti importanti aveva avuto la possibilità di un'occasione grande, calcisticamente parlando c'era stata una trattativa ben avviata, pressoché conclusa con la possibilità di andare alla San Benedettese in C2 a fare il secondo poi non c'è stato il passaggio di società e ha sfumato un po' tutto poi ho avuto l'occasione di incontrare Luca Grilli che aveva bisogno di una persona di fiducia che gli desse una mano al Villa Biagio e per me è stata una grande soddisfazione comunque essere cercato prima di tutto da un amico e poi da un ragazzo che ha sempre fatto parte ultimamente di questo calcio regionale, quindi mi ha dato questa opportunità domenica lui era squalificato, ne ho fatto le veci io anche se credo che tutta la settimana da quando abbiamo iniziato il ritiro collaboriamo quindi per noi è uno stare insieme continuo e un confrontarci quindi penso che non è di fondo l'importante chi vada in panchina in questo caso io, perché credo che ci sia unità di intenti e quindi stiamo lavorando per questo Lei ha avuto modo di fare esperienza da un punto di vista di allenatore sappiamo che lei è stato un calciatore professionista anche se la sua carriera si è interrotta per un brutto infortunio con la Grifo Calcio Femminile, 4 anni, grandi soddisfazioni la promozione in Serie A, la salvezza domenica la Grifo è tornata a giocare in campionato senza di lei per la prima volta senza scapicchi una parte di campionato è arrivato un risultato che sulla carta ci si poteva aspettare anche se fin troppo rotondo, se sente l'esigenza di mandare un saluto alle sue ex allieve e soprattutto che considerazione si è fatta della squadra di quest'anno Credo che la squadra sia più o meno quella dell'anno scorso ha perso qualche pedina ma quelle importanti, le ragazze fondamentali sono rimaste tutte c'è stata l'aggiunta di qualche giovane quindi credo che il nuovo mister Giacomo Sciurpa possa lavorare bene è chiaro che l'inizio del calendario l'ho visto perché comunque rimango in contatto con quella che è stata la mia realtà per 4 anni è un inizio di calendario difficile, non si devono abbattere perché comunque questi ostacoli li abbiamo incontrati e ci abbiamo sbattuto i denti anche noi l'anno scorso però l'importante è guardare in avanti, lavorare per il futuro e penso che è una squadra che si possa prendere delle discrete soddisfazioni L'ultima considerazione sul campionato di eccellenza che l'avete protagonista con il suo Villa Biagio un campionato come al solito avvincente al di là delle prospettive della sua squadra che credo siano prospettive di vertice che considerazione ha di questo campionato e anche delle squadre che si è incontrato? Per me è la prima esperienza dei maschi ma credo che il livello medio, soprattutto singolo, dei giocatori in base alle loro caratteristiche sia buono anche perché è un campionato che vede calcare i campi giocatori importanti che hanno fatto magari delle scelte diverse di vita o per situazioni varie però credo che giocatori che hanno vestito casacche importanti che hanno affrontato campionati di categoria anche superiore e questo penso che per un allenatore è anche bello e gratificante perché non puoi lasciare niente al caso devi curare il dettaglio e dico la verità l'anno di Serie A con le donne sembra un paradosso ma mi ha dato molto e da questo punto di vista credo che l'esperienza fatta al femminile me la porto con me stretta in maniera molto utile per quello che è la prima esperienza nel calcio maschile poi Villa Biagi è una piazza particolare io devo ringraziare tutti insomma dalla società in primis perché mi ha accolto veramente bene mi ha fatto stare come a casa mia come se fossi lì da una vita dal primo giorno parlo di società inteso come tutti i dirigenti dal presidente a tutto quello che è il contorno poi è inutile ribadire su Grilli perché l'ho detto prima è un fattore importantissimo penso che il rapporto che ho instaurato subito con i ragazzi è stato magnifico e penso che domenica un pochino me lo hanno dimostrato anche loro perché insomma si sono messi a disposizione mi hanno aiutato ad aiutarli il Perugia si è stato costruito per arrivare lontano a differenza dell'anno passato credo che abbia tanti giocatori bravi e soprattutto tante alternative sia come l'utilità che proprio come cambi nei singoli ruoli e questo penso che possa fare la differenza rispetto a molte altre squadre fino alla fine poi come al solito se a gennaio c'è bisogno di qualche ritocco per fare il salto di qualità credo che Goretti non le sinerà impegno per farlo insomma domenica è stata una partita secondo me bella intendo dire il Perugia l'ha affrontata nel modo giusto piglio giusto approccio giusto è andato subito in vantaggio la partita si è messa sui binari più congeniali e poi ho sentito diverse critiche che forse per un secondo tempo poco all'arrembaggio visto che il Lecce ha dato l'idea di essere ancora non una squadra sfilacciata timorosa e ho sentito insomma dei commenti che diceva Lecce in dieci il Perugia insomma non ha affondato il colpo io invece penso di aver visto una squadra matura che abbia gestito il pallone benissimo nella ripresa facendo passare i minuti con calma rischiando poco e penso soprattutto rischiando poco da un punto di vista di infortuni peccato per Nicco perché credo che abbia riportato qualcosa insomma che forse lo terrà fuori per qualche settimana ma ci auguriamo di no quindi penso che il Perugia sia sulla strada giusta peccato per per lo stop di Grosseto però si sa quando si cambia un allenatore seppur Camplone è stato qui l'anno scorso però penso che il gruppo dei giocatori è nuovo di conseguenza c'è il tempo di lavorare e penso che sinceramente il Perugia andrà lontano